La nostra azienda Gastronomia San Giovanni nasce nel 1975 con l'intento di riproporre le specialità gastronomiche della ricca tradizione culinaria ragusana. Grazie a tutti. Il nostro obiettivo iniziale è ad oggi pienamente raggiunto e mantenuto in tutti questi anni ci permette di offrire una vasta produzione di qualità elevata e apprezzata sia dagli amanti della tradizione che da chi ne scopre per la prima volta la bontà. Grazie a tutti. 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 dal colore tipico che ricorda un'arancia. A Palermo viene chiamata arancina, ma nella nostra zona Sicilia orientale viene chiamato arancino e quelli al ragù assumono una forma conica tipico del nostro vulcano, Etna, la cui lava rossa viene rappresentata dal ragù. Ne produciamo di tanti gusti, alla melenzana, al burro, agli spinaci, al salame, alla ricotta vaccina e salsiccia, ai frutti di mare, al salmone, al nero di seppia, ai gamberi pistacchi, al gamberone rosso del Mediterraneo e ragusano DOF, quest'ultimo premiato dai migliori chef italiani e internazionali, arancini dolci, ricotta e nutella, cioccolato e bucce d'arancia. Naturalmente questi prodotti possono essere visionati sul nostro sito www.gastronomiasangiovanni.it Stiamo presenti in tutta Italia in diversi punti vendita e depositi. Abbiamo diversi rappresentanti altamente qualificati e sempre a disposizione del cliente, che ci coprono tutta l'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. Il segreto del nostro successo è la genuinità. Selezioniamo le materie prime migliori e nel rispetto delle più severe norme igieniche le lavoriamo con la cura e le metodologie tradizionali che solo la produzione di tipo artigianale può garantire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puntiamo sulla qualità, non sulla quantità. Ci pregiamo di produrre senza l'ausilio di conservanti, additivi chimici e coloranti. Vogliamo che tutto ciò che porta alla nostra firma sia un piatto d'eccellenza in grado di farvi vivere e mantenere vivi i sapori e i profumi della preziosa gastronomia maracusana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.